Il successo di Frattesina, probabilmente anche il motivo della sua nascita, è legato alla posizione strategica che questo abitato aveva. Si colloca lungo il Po, non distante da quello che doveva essere il delta dell'epoca, quindi facilmente raggiungibile dal mare, e in prossimità anche di un'altra via d'acqua, oltre a quella del Po di Adria, che è l'Adige. L'Adige si avvicinava moltissimo nel suo corso antico al Po di Adria e quindi questo consentiva di sfruttare le rotte che dalle Alpi portavano il rame e dall'area transalpina, l'Europa centrale, poi l'Europa settentrionale, l'Ambra, questo per quanto riguarda i contatti con il Nord. Per quanto riguarda invece i contatti con il Sud, ovviamente l'Adriatico è una specie di grande canale che finisce con quello che viene chiamato il Caputadria, e ovviamente Frattesina aveva questa posizione strategica quasi alla fine di questo percorso dell'Adriatico, ma in grado di intercettare in maniera ottimale le rotte che provenivano dalle Alpi e le rotte transalpine, quindi era proprio un luogo di collegamento, ce le confermano gli materiali che abbiamo trovato, qui sono stati trovati avori di elefante, uova di struzzo, chiaramente non c'erano né elefanti né struzzi qua in quell'epoca, quindi dovevano venire dal Mediterraneo orientale o dalle Geo forse, o in Mediate, insomma comunque attraverso vari passaggi, ma comunque sicuramente materiale esotico. E poi c'era l'Ambra e il metallo, che anche questo non è locale, quindi sono tutti quanti evidenze che ci confermano questo ruolo strategico di emporio, di controllo delle rotte commerciali dell'epoca.